Allora, io parlerò di Secchi fisico, in particolare di questo testo che si chiama L'unità delle forze fisiche che Secchi ha scritto. Come già è stato detto, Secchi aveva una formazione di fisico ed è stato il primo fisico che è diventato direttore di un osservatorio astronomico. Sulla biografia di Secchi non mi soffermerò su quella che è stata il suo più importante lascito ai posteri, che è stata la classificazione spettrale per la quale lui è riconosciuto come l'antesignano e tuttora la classificazione spettrale delle stelle fatta da Secchi, diciamo la struttura è rimasta ancora la stessa e a lui viene attribuito appunto di essere stato il primo a farlo. Allora, L'unità delle forze fisiche è stato un testo che Secchi pubblicò nel 1864, preceduto da un testo del 1858 letto all'Accademia Tiberina ed era intorno alla correlazione delle forze fisiche e alla sua influenza nel concetto dell'universo. Di questo testo sono state pubblicate varie edizioni, è stato pubblicato anche in francese, in tedesco. Io non ho fatto l'analisi puntuale delle differenze o delle somiglianze, ci sono dei cambiamenti che ci sono nei vari testi. Io mi soffermerò essenzialmente sul contesto che ha spinto e che ha indotto Secchi a scrivere questo libro. Secchi afferma che la grande scoperta nell'introduzione, la grande scoperta che presentamente preoccupa, preoccupa nel senso che interessa tutti i fisi, i dotti, illustra la nostra epoca è quella della teoria meccanica del calore per la quale questo agente viene ridotto in un semplice modo di movimento. Disporre le basi di questa teoria ed estenderne le applicazioni agli imponderabili e alle altre forze fisiche è lo scopo della presente opera. Ovviamente si fa riferimento all'esperienza di Joule che aveva messo in relazione meccanica e termodinamica. L'altro elemento che gli altri, perlomeno altre due esperienze erano state considerate interessanti da Secchi e da altri per questa unità delle forze fisiche ed erano l'esperienza di Ehrsted che aveva messo in relazione, o Ehrsted e poi Ampere e Farde che avevano messo in relazione magnetismo e elettricità e anche un principio essenzialmente teorico un'opera teorica è quella di Elmos, il principio di conservazione dell'energia in quest'opera di Cesecchi io non ho la pretensione di creare una novella filosofia della natura ma solo di esporre quella che oggi diva va prevalendo dietro lo studio dei fenomeni. Quindi non si è tradotto, questo non è un testo che si è tradotto per Secchi in un programma di ricerca era semplicemente il tentativo di rendere pubbliche quelle che erano state per lui le scoperte più significative che erano state fatte in fisica negli ultimi decenni. Allora Secchi nell'accezione di molti storici è considerato un tipico interprete delle scienze baconiane in particolare per la spettroscopia in contrapposizione alle scienze matematizzate per le quali in fisica per quanto riguarda la spettroscopia questo passaggio sarebbe avvenuto poi agli inizi del Novecento fino poi all'interpretazione della meccanica quantistica. Naturalmente metto tra virgolette scienze baconiane e scienze matematizzate perché faccio riferimento così a una definizione di queste che ha dato Cunno ovviamente che ha introdotto per primo questo tipo di argomentazione e cito perlomeno due ricercatori la prima ricercatrice è la Becker la quale ha scritto l'incertezza della fase pre-paradigmatica anche questo andrebbe messo tra virgolette perché è una locuzione cuniana dell'investigazione astrofisica richiedeva un approccio più baconiano basato su uno studio sistematico e su larga scala delle stelle come quello condotto negli anni Sessanta da Padre Secchi e poi Pietro Redondi in Cultura e Scienze del Luminismo al Positivismo in Astronomia Secchi ottenne i migliori risultati nella profonda vocazione sperimentalista che caratterizza la cultura scientifica italiana nella prima metà del XIX secolo. Io cercherò, così per quello che è possibile anche per ragioni di tempo ma anche perché ci sono dei problemi anche epistemologici e teologici per Secchi che non sono in grado completamente di sciogliere comunque io sono molto in dubbio su questo tipo di ricostruzione storica e così richiamo la vostra attenzione su un particolare in particolare Secchi quando era stato negli Stati Uniti aveva conosciuto un meteorologo e un oceanografo Mauri che dà un indizio di leggere questo periodo non solamente Secchi e non solamente in Italia ma in Europa in maniera leggermente diversa. Allora brevemente quello che dice Secchi per Secchi le scienze naturali si diventano indescrittive e teoriche le descrittive sono quelle che esaminano le relazioni dei vari agenti tra virgolette che agiscono sui nostri sensi oppure la parte dell'astronomia che studia il movimento dei corpi celesti mentre le teoriche sono quelle che cercano di trovare delle leggi che mettono sotto lo stesso cappello dei fatti isolati e raggrupparli in una maniera che siano intellegibili quindi l'unificazione tra elettricità e magnetismo l'unificazione tra radiazioni luminose calorifiche e chimiche di melloni. Fenomeni che quindi che prima erano attribuiti ad agenti diversi dimostrano di essere modificazioni per effetto del movimento di una sola sostanza, l'etere. Quindi siamo in pieno, siamo nell'Ottocento voi sapete da dopo l'esperienza di Jung e la possibilità di descrivere i fenomeni luminosi non più in accordo alla teoria corpuscolare ma alla teoria ondulatoria si era posto il problema quale fosse il supporto di queste delle onde e appunto era stato rintrodotto e specificato questo concetto di etere e il concetto di etere è secchi per secchi l'etere è costituito da molecole le molecole imponderabili però questo è un problema epistemologico in un poco conto comunque un po' ridicolo imponderabile ed è il movimento quello che determina poi il movimento dell'etere di queste molecole determina le varie condizioni sotto le quali noi osserviamo gli agenti o le forze e quindi il combito dello scienziato è quello di individuare l'origine meccanica dei fenomeni mediante la rigorosa trasformazione in equivalente esatto di uno in un altro di questi agenti secondo le leggi conosciute del moto e quindi grandissimo apprezzamento dell'attività che aveva fatto dell'esperienza di Jules che il quale era stato in grado di trovare un equivalente esatto tra due settori tra due branche della scienza completamente diverse c'era un aspetto poi più diciamo epistemologico più anche in parte teologico in Secchi allora è stato Mazzotti appunto tra gli storici che si sono interessati di questo che in questo saggio che è in un testo a più voci afferma appunto sottolinea come Secchi sia stato il più autorevole scienziato ecclesiasta del suo tempo e contribui sostanzialmente al successo dello sperimentalismo spiritualistico che Mazzotti diciamo è una tematica che Mazzotti sostanzialmente prende da 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 Ridondi e a sua volta Ridondi poi la prende da Pianciani come vedremo tra poco le leggi della natura e la struttura della materia erano trattate nel contesto della rappresentazione unitaria del fenomeno centrale sul movimento delle molecole appunto come già ho detto interessante il fatto che Secchi criticò l'interpretazione realista della forza a distanza e dei fluidi imponderabili va bene sapete che per spiegare eletricità, magnetismo, termodinamica calore si erano introdotti appunto dei fluidi imponderabili che il passaggio di questi fluidi determinasse poi corrente, magnetismo calore eccetera eccetera tutte le forze naturali sono forme differenti del movimento della materia ponderabile e imponderabile anche i costituenti della materia ponderabili non sono altro che i vortici dell'etere ovviamente questo io la ritengo una contraddizione enorme nella costruzione teorica di Secchi perché appunto richiamare i vortici vortici dell'etere significa ritornare cioè rievoca i vortici cartesiani la polemica Newton tra Newtoniane e cartesiani a proposito del fatto che la forza era una forza occulta era un ente occulto eccetera eccetera comunque queste sono affermazioni di Secchi ispiratori vicini dell'attività di Secchi essenzialmente Pianciani il suo il suo il suo maestro che era stato e che nelle istituzioni fisico-chimiche era in elementi di fisico-chimica Pianciani che aveva che aveva fatto un'attività sperimentale anche nel campo come si è sentito in questi giorni nell'attività nell'elettricità e nel magnetismo appunto afferma questo dal punto di vista generale che la sintesi e la vera chiave della filosofia era la sua tendenza essa cercava di scoprire quegli astrusi legami che connettono i vari lami della scienza dello scibile umano e Mantovani che ha scritto la voce Pianciani per l'istituto per la Treccana l'edizionale biografico degli italiani appunto sostiene i testi scientifici di Pianciani che non presentano calcoli matematici gli apparati scientifici operano per il solo scopo di ricicliare cercare nuove identità di effetti per la correlazione dei fenomeni e ancora Mazzotti su Pianciani l'atomismo gesuitico e le teorie dinamiche furono sviluppate in opposizione alla rinascita neoscolastica contemporanea dell'ilomorfismo ed era randicato nella visione agostiniana della causa prima sottostante a tutti i fenomeni naturali in verità diciamo questo aspetto veramente così faccio un po' fatica a comprendere il significato se non nell'ambito appunto della discussione appunto che in parte è venuta fuori in questi giorni sull'atteggiamento dei gesuiti verso la scienza e anche sulle proposte sulla scienza per quelli che non lo sanno come non lo sapevo finché non ho letto questo l'omorfismo è diciamo è una teoria che è considerata eredica all'interno della tradizione della della chiesa cattolica secondo il quale si recuperava il dualismo aristotelico tra materia e forma mentre in me se ho capito bene poi forse qualcuno sicuramente sarà molto più agguerrito e si recuperava questa visione attribuita ad Agostino secondo la quale esiste una causa sottostante a tutti i fenomeni e quindi diciamo l'unità degli agenti non dico forze perché poi come vedremo sarà molto criticato per quest'uso improprio della parola forza chi sono gli aspiratori lontani di secchi tantissimi tantissimi ne cito solamente due e vado un po' più in dettaglio su questi che sono la Mary Somerville che ha scritto The Connection of Physical Sciences nel 1834 il progresso della scienza moderna è stato significativo nella sua intenzione a semplificare le leggi in natura e a unificare settori eterogenei sotto principi generali e ancora e questo è ancora più importante William Robert Grove che scrive The Correlation of Physical Forces il quale viene citato esplicitamente da secchi più volte secchi non l'aveva letto non l'aveva letto nell'edizione inglese non perché non leggesse l'inglese ovviamente sì che era stato in Inghilterra negli Stati Uniti ma perché probabilmente non le conosceva proprio l'esistenza e ne viene a conoscenza attraverso la traduzione francese che l'abbato Mogno aveva fatto del testo di Grove le varie proprietà della materia ferma Grove sono correlative hanno reciproca dipendenza nessuno può essere considerato essenziale o causa approssimata delle altre ma che ambedue possono produrre essere convertibili l'una nell'altra ancora ispiratori diciamo dell'organizzazione di secchi non leggo i titoli delle varie opere comunque Melloni che è stato anche citato qui in questo in questo in questo convegno Fusinieri Altrimenti di parlare Helmholtz e questo saggio di Helmholtz è molto importante sull'interaction of natural forces curioso e interessante che fu tradotto in inglese da John Tyndall e probabilmente se chi l'aveva letto su questo così come tutti gli scienziati di diciamo americani degli Stati Uniti attraverso queste traduzioni vengono a conoscenza di Helmholtz e dei suoi testi poi Meyer che è stato poi molto citato per il principio di conservazione dell'energia Liebig Faraday Campbell eccetera eccetera va bene ci sono delle differenze tra se che i grovi vado avanti quindi per se che i grovi e altri l'unità delle forze natura è un programma di ricerca per vedere una teoria meccanica in grado di spiegare i fenomeni eterogenei il programma è radicato nelle discipline fisiche e quando parlano di correlazione tra forze intendono proprio il principio di conservazione dell'energia correlazione significa secondo Grove essenzialmente una dipendenza mutua di due idee inseparabili fa l'esempio quando si parla di altezza non si può associare ad essa il suo opposto cioè la profondità le critiche va bene devastante fu quella di Maxwell che in qualche maniera può essere considerato come colui che dal punto di vista ha chiuso un'era intorno a questa discussione sul testo da Somerville quando esaminiamo il suo libro al fine di trovare l'altura della connessione delle scienze fisiche noi siamo all'inizio tentati di supporre che sia dovuta all'arte di mettere insieme così del rilegatore di testi che ha messo in un solo volume una tale quantità di informazioni molte quantità di informazioni intorno a ciascuno di esse quello che noi troviamo infatti è una serie di esposizioni di differenti scienze che difficilmente e ma difficilmente una parola intorno alla loro connessione cioè Maxwell proprio diciamo contesta proprio l'affermazione di fondo della della Somerville il titolo proprio il titolo poco è stato detto intorno alla connessione che è alla riferenza delle mutue dipendenze di differenti scienze dell'altro così l'astronomia fisica richiede una conoscenza della dinamica e l'astronomia pratica deve imparare un certo numero o una certa quantità di ottica al fine di capire la refrazione atmosferica e gli aggiustamenti e le messe appunto dei telescopi le scienze hanno sempre mostrato di avere in comune un metodo cioè è che è l'analisi matematica così i metodi matematici inventati per l'investigazione di una scienza sono spesso utili in un'altra l'unità ombreggiata diciamo da Sommel nel libro di Soperfil è allora un'unità dei metodi della scienza non un'unità dei processi della natura questa è la controposizione quindi le scienze sono unite va bene ma l'unità non deriva dal fatto che esiste un ente materiale che si manifesta nelle varie discipline nei vari oggetti ma esiste un metodo della scienza che si manifesta in tutte le discipline va bene ora molte difficoltà di questo terreno dal fatto che quando Grove e altri usano i termini forza forza massa eccetera eccetera energia non definiscono il contesto all'interno del quale questo termine teorico ha la sua definizione va bene e quindi Thomas dice che Grove è sconnesso e antiscientifico e Maxwell ancora se per forza intendiamo quello che produce cambiamento di moto allora non possiamo parlare di forza quando parliamo di luce quando parliamo di calore quando parliamo di magnetismo dobbiamo più correttamente parlare di energie va bene e quindi bisogna valutare Grove solamente come un mezzo attraverso il quale si riesce a interessare in un linguaggio sufficientemente appropriato per evitare fraintendimenti interessare persone comuni e quindi con un linguaggio comunque familiare per essere ascoltate di persone che rifugono con orrore da ogni affermazione nella quale la convenzione letteraria è sacrificata alla precisione va bene questo è quello che pensa Maxwell appunto volevo accennare accendo solamente ovviamente invece è un nuovo modo di intendere un po' anche questo periodo anche in parte a differenza di Maxwell nel 77 Cannon introduce il concetto di scienza humboldtiana in opposizione alla definizione cuniana di scienza baconiana allora e quali sono le caratteristiche nel sottolineo 1 rinnovate insistenza nell'accuratezza non solo per i pochi strumenti fissi perché humboldt era stato un naturalista che aveva girato tutto il mondo ma per tutti gli strumenti e tutte le osservazioni Secchi ha molto a che fare con questo tipo di con questo tipo di argomentazione con questo tipo di approccio alla scienza e ricordo solo una Secchi cioè Cannon non ha novera Secchi tra gli scienziati humboldtiani ma novera Matthew Maury come vi ho detto col quale Secchi quando è stato in America è stato in contatto però dicevo esiste appunto sicuramente uno strumento inventato da Secchi che rientra perfettamente in questa descrizione lo strumento era il meteorografo di Padre Anglico e lo Secchi appunto come dice Brenni aveva lo scopo di ordinare registrare i fenomeni in modo continuo e anche di rappresentarli automaticamente con dei grafici che secondo Secchi sa più delle tabelle numeriche parlano agli occhi da questi grafici dal loro confronto diretto sarebbe stato più facile comprendere i fenomeni atmosferici di una reciproca influenze e relazioni e questo in stretta relazione al fatto che la scienza humboldtiana secondo Cannon implica nuovi strumenti concettuali isomappe grafici teorie degli errori e applicazione di questi strumenti non ha isolati i laboratori ma l'immensa varietà dei fenomeni reali in modo da produrre leggi che hanno a che fare con le incomplesse interrelazioni biologiche e fisiche quindi al riduzionismo meccanicisto al quale facevano riferimento direttamente indirettamente Secchi e i suoi ispiratori viene contrapposto un altro modo di fare scienze in cui c'è un approccio che nello stesso tempo molto preciso per quanto riguarda le operazioni sperimentali e di osservazione che richiedono strumenti sempre più precisi ma che cercano di trovare un'unità e una relazione tra fenomeni tra aspetti della realtà completamente diversi e cito questo ancora è ancora Cannon e l'ultimo e poi chiudo Humboldt così vide così tante aree per la teoria che sarebbero stati necessari parecchi anni per coprire tutto quello con l'accuratezza della quale Humboldt richiedeva come un programma per un individuo era senza speranza per un programma per dieci o venti anni fu gigantesco ma come un programma per il mondo per la pletora di scienziati che stavano arrivando le spedizioni che ebbero posto Gauss e Darwin e altri proposito delle teorie un brevissimo inciso a che cosa si riferisce? Va bene a Darwin e alla teoria dell'evoluzione Gauss si riferisce in particolare a Gauss alla teoria del magnetismo terrestre di Gauss la teoria del magnetismo terrestre di Gauss è una teoria estremamente importante che non è assolutamente qualcosa che non viene considerato scientifico come dopo verrà detto ma è la prima volta che Gauss applica la teoria del potenziale che era una teoria essenzialmente uno strumento matematico a fatti fisici concreti che sono le osservazioni del magnetismo terrestre fatte in tutte le parti del mondo perché Gauss insieme a Humboldt lanciarono un programma, la crociata magnetica per cui con lo stesso strumento in tante parti del mondo in circa 100 parti del mondo si facevano delle operazioni e queste operazioni servivano poi a trovare le costanti che erano nelle equazioni differenziali che spiegavano le equazioni differenziali basate sul fatto che la forza magnetica ammettesse un potenziale quindi l'uso del potenziale in queste equazioni differenziali venivano fuori le costanti che venivano da questa esperienza per questa ragione appunto dice e Gauss e Darwin e altri proposte queste teorie fu solo verso la fine del XIX secolo dopo la fisica e la fisiologia di laboratorio che venne fuori alla loro posizione di riassicurazione di self-assurance dogmatica anche questo tipo di attività fu visto come vecchio e che la teoria del magnetismo terrestre di Gauss fu giudicata non essere una teoria per niente e quella di Darwin e Darwin fu considerato non un biologo professionista questo è quello che il baconeanismo vuole per sé al punto e siamo tornati a un punto di vista del Novecento quindi dopo alla fine dell'Ottocento siamo tornati ancora alla stessa discussione secondo Cannon perlomeno io ho anche delle critiche rispetto a questo tipo di approccio ma ovviamente non è il momento scusa Pasquale mi dispiace non c'è tempo per domande